Il Giubileo serva a portare speranza, così Papa Francesco partecipando ad un incontro sulle disuguaglianze a Roma. Bisogna osare in carità, aggiunto il Pontefice. Giubileo 2025 si è concluso il pellegrinaggio a Roma della Diocesi di Andrea in preparazione all'Anno Santo. Abbiamo ascoltato il Vescovo di Andrea, Monsignor Luigi Manzi. A Paternò, in provincia di Catania, è stato inaugurato il centro formativo Giovanni Lizio, sostenuto dai fondi dell'8x1000, in cui si svolgeranno attività di doposcuola e oratorio. Un albero per la salute all'ospedale Bonomo di Andrea sono stati donati tre alberi dai carabinieri, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla tutela della salute dell'ambiente. Frisone e le notti di Fiullen è la mostra ad arte dedicata all'artista Ferruccio Francesco Frisone, allestita al Polo Museale di Trani. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Il Giubileo serva a portare speranza, lo ha detto Papa Francesco, partecipando ad un incontro sulle disuguaglianze a Roma. Bisogna usare in carità, ha aggiunto il Santo Padre. Sentiamo. Nella bolla di indizione del Giubileo ho invitato tutti a pensare dei segni di speranza a favore della pace, della vita umana, degli ammalati, dei carcerati, dei migranti, degli anziani e dei poveri. Lo ha ricordato Papa Francesco intervenendo all'Assemblea della Diocesi di Roma sulle disuguaglianze. Rivolgo a tutti voi un appello forte a realizzare opere concrete di speranza, ha proseguito il Santo Padre, evidenziando che la speranza cristiana è sempre operosa perché animata dalla certezza che è il Signore a guidare la storia e che in Lui possiamo costruire ciò che umanamente sembra impossibile. La speranza non delude mai e seminarla è un impegno che siamo chiamati ad assumerci anche in vista del Giubileo ormai vicino, che ho voluto fosse segnato dalla speranza cristiana, ha aggiunto Bergoglio, convinto che sia necessario avviare nuovi processi di speranza, sognare la speranza e costruirla attraverso il nostro impegno che è un impegno responsabile e solidale a sottolineato. Osate tutti voi, osate nella carità, non abbiate paura di sognare imprese grandi, anche se queste iniziano con impegni piccoli, ha concluso il Pontefice. E in preparazione del Giubileo 2025 una delegazione della Diocesi di Andrea si è recata in pellegrinaggio a Roma. Tra i momenti più significativi del cammino ha spiegato il Vescovo Monsignor Luigi Manzi il rinnovo delle promesse battesimali. Sentiamo. Noi con questo pellegrinaggio ci siamo ricongiunti alle prime generazioni cristiane e dunque stiamo facendo l'esperienza di vedere, di toccare direi con mano, la fede dei nostri progenitori. Uno dei momenti più significativi è stato quello del rinnovo delle promesse battesimali. Che significato ha per il cristiano ricordarsi di rinnovare? Rinnovare? Beh, è come quando in una coppia che si ama si dicono io ti amo non una volta sola, ma se lo dicono anche più volte. Quando vivono momenti significativi della loro vita si rinnovano. Io ti amo, io ti voglio bene, tu sei importante per me, io ci tengo a te. Ecco, rinnovare significa tener vivo nel nostro cuore, tener viva la consapevolezza che la fede è un grande valore della vita. Direi che è il valore principale, che dà senso il valore a tutto ciò che noi viviamo. La gioia, il dolore, le fatiche, le speranze, come dice il concilio. Tutto ha bisogno di essere rinnovato perché altrimenti c'è sempre il rischio che cade nel dimenticatoio delle tante cose e non ci pensiamo più. Ci facciamo questo grande gioioso augurio che questo anno giubilare che sta per iniziare, segnato dalla speranza, dia a tutti noi la gioia di tornare a sperare nei frutti dell'opera dedentrice di Cristo. A volte i problemi, le difficoltà, le sconfitte che la società vive ci porta a dubitare e ci porta a non sperare più. Invece, ecco, aver visitato i luoghi dove i nostri fratelli di fede millenni fa speravano e questa fede, questa speranza che non è andata persa, c'è ancora, è il segno che c'è l'opera di Dio. Se non ci fosse l'opera di Dio, io penso che sarebbe saltato tutto già da molto tempo. Ci spostiamo a Paternò, in provincia di Catania, dove è stato inaugurato il centro formativo Giovanni Lizio, sostenuto dai fondi dell'Otto per Mille e in cui si svolgeranno attività di dopo scuola e oratorio. Il servizio di Alba di Palo. Un centro per combattere la dispersione scolastica, un luogo per aiutare i giovani viti a crescere nella legalità. A Paternò è stato inaugurato il centro formativo della Caritas Diocesana di Catania, intitolato a Giovanni Lizio, l'ispettore capo ucciso dalla mafia a Catania il 27 luglio del 1992. Si tratta di una nuova opera segno, sostenuta anche dai fondi dell'Otto per Mille alla Chiesa Cattolica, che con il servizio di dopo scuola e le attività oratoriali segue bambini in età scolare che vivono particolari situazioni di disagio familiare e sociale. Il nostro territorio, purtroppo, è segnato dalla povertà educativa. Un oratorio è un luogo dove si gioca, c'è un campetto che, possiamo dire, toglie i ragazzi dall'insicurezza e dai pericoli della strada. Ci sono delle aule di studio dove verranno seguiti perché nessuno sfuga, possiamo dire, ai compiti dello studio e dell'approfondimento. Degli ambienti dove i ragazzi potranno crescere in amicizia e soprattutto salire. Ecco, sentiamo questo altro luogo come un baluardo di civiltà e di crescita per il nostro Paese. Il centro è una testimonianza della Chiesa che sul territorio sviluppa alleanze virtuose con l'istituzione scolastica. Un patto di mutualità educativa per ridurre le condizioni che favoriscono il disagio giovanile e scolastico tramite la segnalazione di studenti della scuola primaria in contesti familiari fragili che verranno inseriti nei percorsi di dopo scuola e potenziamento curati dai docenti volontari del centro. Tra gli obiettivi c'è anche il sostegno all'educazione alla carità con la programmazione a scuola di incontri formativi con i volontari Caritas per promuovere l'accoglienza, l'ascolto e il donarsi agli altri. Il compito nostro non è solo quello di farli studiare ma far capire loro perché devono studiare, ecco allora il modello, e farli giocare, farli divertire, fargli vivere il loro tempo meraviglioso e inestinguibile di bambini. L'integrazione passa dalla cultura e il commento del segretario della CEI Monsignor Baturi ai dati contenuti nel 33esimo rapporto Immigrazione di Caritas e Migrantes. I quasi 900 mila figli di immigrati che frequentano la scuola stanno molto a cuore alla CEI e alla Chiesa italiana. Aggiunto, ascoltiamo. Una vera integrazione passa attraverso il canale della cultura dove si riconosce che ciascuno è portatore di un patrimonio. Sono le parole del segretario della conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, pronunciati in occasione della presentazione del 33esimo rapporto Immigrazione realizzato da Caritas e Migrantes, da cui emerge che aumenta la popolazione straniera in Italia, pari a 5,3 milioni, e la sua occupazione, ma cresce anche il cosiddetto fenomeno dei working poor, ovvero lavoratori poveri tra i cittadini non europei. Nel report si evidenzia anche un altro dato, è in crescita la popolazione scolastica di origine straniera, che arriva a 915 mila unità, rappresentando l'11,2% del totale. Per Baturi è la cultura che emette anche un discorso sulla cittadinanza, tema molto caro alla CEI, perché da una parte c'è il dovere di star dentro a una comunità contribuendo al suo sviluppo e dall'altra c'è un nucleo di diritti che rende agibile la tutela della dignità di ogni uomo. La CEI da molto tempo è favorevole ai percorsi di acquisizione della cittadinanza, in particolare il segretario della CEI ha citato il modello dello IUS su scuole, che possa far sì che il tema dell'integrazione avvenga dentro a un percorso di crescita umana, di promozione degli stessi diritti e doveri, ha detto, dei propri compagni di classe. Lecce è la migliore città pugliese per quanto riguarda le performance ambientali, mentre in ultima posizione c'è Bari. E' quanto emerge dall'ultima classifica stilata, da Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Lega Ambiente. Sentiamo. Lecce è la migliore tra le pugliesi, al 58esimo posto, nella classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024. Il rapporto di Lega Ambiente è realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e il Sole 24 ore, sui 106 capoluoghi di province italiane per performance ambientali. Dall'analisi è emerso che il bel paese viaggia a due velocità, con il sud che arranca rispetto al nord. Nello specifico, Lecce risulta essere tra le città italiane migliori in termini di dispersione della rete idrica, insieme a Pavia e Milano, riuscendo a contenere le perdite entro il 15%. Nella classifica generale, il capoluogo salentino è seguito da Brindisi, al 71esimo posto, Taranto, al 79esimo posto e Foggia, che occupa l'84esimo posto. In ultima posizione, in Puglia c'è Bari, all'89esimo posto. La città di Foggia è invece tra le peggiori d'Italia in termini di trasporto pubblico, con una media di 10 passeggeri per abitante, mentre, per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile, è ferma quasi a zero. Il capoluogo d'Auno, insieme alla città di Palermo, è tra gli ultimi posti nella raccolta differenziata, con una soglia che va al di sotto del 20%, mentre Brindisi risulta tra le peggiori d'Italia nell'uso efficiente del suolo. In generale, però, le città pugliesi non registrano risultati particolarmente negativi in termini di qualità dell'aria. Per quanto riguarda le concentrazioni di PM10, per esempio, delle 98 città a capoluogo di provincia di cui si è potuto risalire al dato, nessuna ha superato il limite normativo previsto. In particolare, sono 20 gli indicatori di ecosistema urbano e, da quest'anno, i dati sulla qualità dell'aria provengono dal rapporto Malaria che Legambiente realizza sulla base dei dati ARPA regionali. L'insieme degli indicatori selezionati per la graduatoria complessiva dei capoluoghi esaminati nel report copre sei principali componenti ambientali presenti in città, aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. All'ospedale Bonomo di Andrea questa mattina sono stati donati dall'arma dei carabinieri tre alberi nell'ambito del progetto Un albero per la salute. Si tratta della campagna di sensibilizzazione nazionale sulla tutela della salute e su quella del nostro ecosistema ambientale. Scopriamo di più nel servizio. Attenzione e cura, condivisione e giustizia sono le parole chiave che descrivono un gesto simbolico che punta a sensibilizzare sulla consapevolezza e l'importanza dei problemi ambientali, sempre più marcati nella nostra società. Tre alberi di specie autoctone, la talea di Falcone, due giovani querce mediterranee, sono stati donati dall'arma dei carabinieri all'ospedale Bonomo di Andrea. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale Un albero per la salute, nata dalla collaborazione con la FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. In 30 ospedali italiani per il secondo anno consecutivo vengono donati gli alberi della salute, o meglio la talea di Falcone, in cui veramente la FADOI, una società scientifica che costa 3.000 dirigenti medici in Italia, ha sposato quest'idea come benessere, perché un albero rappresenta il benessere. Il fatto di anidride carbonica e quindi che ci sia veramente una maggiore ossigenazione è importante. Ma la cosa più importante di tutti secondo me è che noi nel tempo potremmo servire attraverso la tecnologia a seguire gli alberi, la loro crescita e questo è veramente un vantaggio, dare un esempio alle generazioni future di come sia importante far crescere gli alberi invece di tagliarli. Questa è una cosa importante e noi ci crediamo come medici ma anche come cittadini. La risoluzione delle problematiche legate ai cambiamenti climatici e al loro impatto sulla salute delle persone è al centro del progetto della collaborazione trasversale tra la FADOI e l'Arma dei Carabinieri. Donare un albero significa trasmettere un forte gesto di legalità, un forte gesto di rispetto dei valori ambientali, dei valori sociali. Noi dell'Arma dei Carabinieri oggi doniamo la talea di Falcone e due esemplari autoctoni quercini del Mediterraneo che verranno messi a dimora in uno spazio verde dell'ospedale per garantire una maggiore salute, un maggior rispetto dell'ambiente e una visione gradevole di esseri che consideriamo inermi ma invece sono esseri che ci donano grandi contributi in termini ecosistemici. Noi viviamo, noi respiriamo, noi ci cibiamo grazie alla presenza degli esseri vegetali che rappresentano l'80% della biodiversità sul pianeta Terra. Vanno salvaguardati, vanno protetti. Buon cibo fa buon sangue nasce un'intesa tra Coldiretti e Avis Puglia che promuove la dieta mediterranea per prevenire le malattie. Ascoltiamo. Alvia la campagna d'intesa tra Coldiretti e Avis Puglia per prevenire le malattie ma anche per garantire gesti di solidarietà come la donazione del sangue che in Puglia conta 55 mila cittadini, una platea che va educata ad alimentarsi al meglio. Il programma prevede l'educazione alla salute promuovendo anche nelle scuole un'adeguata consapevolezza dell'importanza del dono del sangue e del corretto stile di vita. Sono infatti quasi 80 mila le donazioni di sangue in Puglia che vanno implementate, sostenendo i bisogni di salute dei cittadini, favorendo in ambito regionale il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati. Dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo. L'intesa prevede attività di formazione sul buon cibo e sui temi della sana e corretta alimentazione, al fine di prevenire patologie metaboliche e degenerative, disseminando la cultura della prevenzione sanitaria e del corretto stile di vita come contrasto a fenomeni derivati, quali dipendenza, comportamenti a rischio e bullismo. Saranno dunque favoriti attraverso i giovani e le donne di Coldiretti Puglia e la consulta Giovani progetti ed iniziative di ambito rispiro per una formazione puntuale e cosciente sulle tematiche economico-sociali regionali, nazionali e internazionali, nel campo sociosanitario e del volontariato. Conoscere i segreti della pasta, patrimonio culturale immateriale e dell'umanità dell'UNESCO. È stato questo l'obiettivo di La Pasteggiata dal campo alla tavola, l'iniziativa che si è svolta a Bari in occasione della giornata mondiale della pasta. Damiana Dorotea Sgaramella. Un viaggio di gusto e di conoscenza per celebrare la pasta, piatto simbolo della storia gastronomica pugliese. Si è conclusa la prima edizione della Pasteggiata dal campo alla tavola, l'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Piante e degli Alimenti dell'Università di Bari. In occasione della giornata mondiale della pasta che si celebra il 25 ottobre, i visitatori hanno avuto la possibilità di passeggiare tra i sapori della tradizione, assaporando i primi d'eccellenza prodotti con il frumento proveniente dal Centro Didattico Sperimentale Enrico Pantanelli. Grazie agli studi e alla ricerca di due progetti integrati per la biodiversità, Safe Grain Leg e Safe Grain Chair, è stato possibile dunque conoscere i segreti della pasta, patrimonio culturale immateriale dell'umanità, dell'UNESCO. L'iniziativa rientra tra le attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2022. Un evento che è stato organizzato nell'ambito di due progetti regionali sulla salvaguardia delle risorse cerealicole e delle leguminose da granella, che è finalizzato a evidenziare come l'attività svolta dal Dipartimento di Scienze del Suolo della Piante e degli Alimenti va nella direzione di ricerche finalizzate alla valorizzazione di questi prodotti di origine agricola. L'iniziativa che prende origine da un'idea derivata dalla produzione di pasta biologica nell'ambito del centro didattico sperimentale Enrico Pantanelli dell'Università di Bari ha anche la funzione di recuperare fondi per istituzione di una borsa di studio per studenti meritevoli che vogliono affrontare le tematiche connesse alla filiera del grano duro e della produzione della pasta. Frisone e le notti di Füllen, il titolo della mostra d'arte dedicata all'artista Ferruccio Francesco Frisone, allestita nel Polo Museale di Trani. In totale 113 i disegni esposti, tutti realizzati durante la tragica esperienza nei campi di concentramento. Ascoltiamo Antonella Filannino. 113 disegni realizzati su fogli di fortuna sono una traccia di una mente che trova nell'arte una forma di sopravvivenza rispetto alla brutalità dei campi di prigionia durante la seconda guerra mondiale. È la narrazione di Ferruccio Francesco Frisone, pittore e scultore e a lui, che è interamente dedicata, la mostra d'arte Frisone e le notti di Füllen, allestita presso il Polo Museale di Trani, artista e prigioniero, che voleva raccontare per non dimenticare chi da quei lager non è più tornato, a ricordare la sua voglia di vivere suo figlio Giovanni. Tener duro non c'è altro da fare, stringere i denti e ingoiare l'ammaro. Che cosa vuol dire questa frase per lei? Mio padre aveva una sola intenzione mentre si trovava in quel posto ed era di tornare dai suoi. Mio padre era sposato, aveva un figlio, mio fratello, e tutto quello che stava passando lo voleva ingoiare, come dice, per poter tornare. Il suo compito era quello di preparare le croci per le persone che morivano nel campo. Faceva ritratti per poter mangiare. Nei tratti di matita su cartone o carta logora si percepiscono i confini della cella, le ombre delle guardie, oltre al tentativo instancabile di restare vivi. Tutto questo, insieme alle pagine del suo diario, è stato donato alla Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria di Barletta. Una grande acquisizione. Si potrebbe vivere solo della promozione dei 113 disegni e del manoscritto di Frisone, ma non ci fermiamo qui. Ormai la Fondazione Barletta, non lo devo dire io, sarei di parte. È un hub mondiale proprio della letteratura musicale, artistica, organologica, concentrazionaria, maturata in tutti i campi di concentramento. Nel frattempo l'intera collezione sarà visitabile presso il palazzolo di Spoto a Trani, fino al 31 gennaio del 2025. È una sorta di Instagram del tempo, quindi sono degli scatti, dei momenti vissuti nel campo ed è importante vederla perché pensare, io ho avuto la fortuna di toccare queste opere durante l'allestimento, sono opere che hanno vissuto il campo e vederle dal vivo qui al Polo Museale di Trani è una cosa, a mio dire, fenomenale. Ancora un appuntamento con libri nel borgo antico e bisceglie. Tra i protagonisti dell'edizione 2024, Alfredo Vasco con il libro Quei Dieci Secondi in Più. Un libro al giorno incontra oggi Alfredo Vasco, autore del libro Quei Dieci Secondi in Più. Il tema della morte è sicuramente uno dei temi protagonisti di questo libro, come viene trattato e scandagliato all'interno di queste pagine? Il tema della morte è il tema protagonista della nostra vita, che non è un paradosso. E allora ho voluto così catarticamente giocarci su. come è trattato? In maniera grottesca, ironica. Tanto non ci si può fare nulla, hai capito? Dieci secondi prima siamo in vita, dieci secondi dopo non ci siamo più e allora giochiamoci pure. Tanto tutto il resto non serve. Questo è. E godiamoci soprattutto gli attimi della nostra vita, no? Questo assolutamente sì, sì. E come nasce l'idea di scrivere appunto questo libro? Per strada, ho cominciato a scrivere dei racconti, sono 60 e poi mi sono reso conto che c'era una tematica che li univa e quindi l'idea di metterli insieme è venuta dopo, cioè la prima istanza era quella comunque di scrivere. Dei racconti che quindi ci portano anche a fare delle riflessioni o non solo? Senti, non amo i messaggi, non amo i messaggi. Io mi auguro che regalino dieci minuti di divertimento, di sorpresa, di scandalo perché ci sono anche dei momenti truci, ma poi se uno vuol riflettere riflettesse. Un momento di svago quindi dalla vita di tutti i giorni. Sì, un momento in cui tu leggi le racconte e non pensi ad altro. Grazie ancora ad Alfredo Vasco, autore del libro Qui 10 secondi in più, progedit editore e grazie anche a Libri nel Borgo Antico, il festival letterario che ogni anno a Bisceglie ospita autori e lettori nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro. E si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata. Grazie a tutti.